Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Roller 289, oggi ragazzi come di sicuro avrete letto dal titolo, vi farò la mia panoramica per quanto riguarda la situazione a Gardaland di Sequoia Magic Loop o per chi vuole Sequoia Adventure, vi parlerò un po' di cosa potrebbe accadere all'attrazione e delle varie situazioni che ha in generale e vi farò appunto questa panoramica generale, però ragazzi come sempre prima di iniziare con il video vi invito a lasciare like, ad iscrivervi, a fare tutto quello che volete, se vi iscrivete ovviamente non dimenticate la campanella che è molto importante per non perdervi i miei futuri video, andate anche a dare un occhio in descrizione dove trovate vari link come per esempio i miei social tra cui Instagram, Twitch o anche semplicemente TikTok e niente, io direi tranquillamente che possiamo iniziare con il video. Allora prima di iniziare proprio con il vivo della situazione io vi farei una piccola introduzione per quanto riguarda l'attrazione anche per chi magari non conosce proprio questo rollercoaster di Gardaland. Seguoia Magic Loop è questo rollercoaster che è stato inaugurato precisamente il 30 aprile 2005 per il trentesimo anniversario di Gardaland, ma in realtà ha aperto l'anno dopo per dei problemi tecnici. È un rollercoaster di tipo Screaming Squirrel Coaster prodotto dalla S&S e cosa ha portato alla chiusura? Qual è stato diciamo l'evento principale che ha portato alla chiusura del rollercoaster in questione? L'8 aprile del 2017 accade un piccolo incidente. Succede che in pratica viene un blackout potente a Gardaland e si spengono varie attrazioni tra cui anche Sequoia Magic Loop che all'epoca in realtà era ancora Sequoia Adventure. Cosa succede? Scandari di qua, scandari di là, i giornali ne parlano, persone bloccate a 30 metri d'altezza, a testa in giù per due ore sotto il sole. No, non è vero, non è successo mai nella vita, tuttavia si sono rimaste bloccate nella salita, non per due ore per un po' di meno sotto il sole, ma questo qua è un piccolo appunto. Cosa succede dopo questo incidente? La trazione viene messa tra virgolette sotto manutenzione per tutta la stagione 2017 e tutta la stagione 2018. Quindi circa due anni in pratica, due stagioni complete di Gardaland. Nel 2019 Gardaland decide di rilanciare l'attrazione con un nuovo nome che è Sequoia Magic Loop e anche un nuovo tema che è appunto quello della segheria magica, diciamo un tema di merda, fatemelo dire dal profondo del mio cuore, era molto meglio quello lì della segheria normale di Sequoia Adventure. Comunque cosa succede? Passa la stagione, Sequoia è aperta e nessun problema. Arriva il Covid 2020, l'attrazione è tutto Gardaland in realtà, rimangono chiusi, ovviamente per la pandemia. Riapre Gardaland a giugno, l'attrazione vuota, fine. Tutto il 2020 l'attrazione chiusa. Passa un altro anno, 2021, l'attrazione vuota, chiusa, fine. Un altro anno, 2022, l'attrazione vuota, chiusa, fine. L'attrazione è ufficialmente chiusa in pratica. In realtà la community dei parchi di divertimento si divide in chi la vuole togliere, proprio chi la odia e c'è una piccola minoranza, circa un 10% che la vorrebbe ancora. In realtà io sto dalla parte di quel piccolo 10% perché un po' mi dispiace perseguire a Magic Loop. Comunque queste persone che non la vogliono dicono che è inutile, non è bella, occupa solo spazio. Sì, ci hanno anche ragione in realtà, però appunto io ci sono rimasto legato. Quindi cosa succede? Abbiamo tre scenarii. La tengono, la smantellano e basta o la sostituiscono con un'altra attrazione. Adesso vi spiego tutti i miei motivi. Per quanto riguarda il tenere l'attrazione, sì, volendo si può tenere l'attrazione, rimane lì a prendere muffa in realtà perché è inutile. L'unica cosa positiva che può portare a tenere l'attrazione è che può essere tenuta solo per scenografia, che in realtà per scenografia non è così terribile. C'è di peggio in realtà, non è così terribile. O addirittura semplicemente Gardaland se ne vuole sbattere, nel senso che noi spendiamo dei soldi per smantellarla, perché dobbiamo spenderli, la lasciamo lì e chi se ne frega. Ed effettivamente non è che abbia tutti i torti Gardaland. Perché in realtà quali sono i problemi principali di questa attrazione? Uno, ha una portata oraria che è terrificante, ma veramente terrificante, soprattutto nel 2019 dopo che è stata ribrandizzata. E secondo, non è molto adrenalinica, nel senso sì, ti tiene a testa in giù, però non è quell'inversione di un normale roller coaster, è un'inversione un po' diversa che in realtà non regala troppe emozioni. Poi, possiamo avere lo scenario del fatto che la smantellano. Sì, possono dire sequoia, basta, è giunto il termine del suo periodo, la smantelliamo. E anche qua non è una brutta idea, la smantellano, lasciano una zona libera magari con della scenografia in più, robe del genere, che non sarebbe neanche male. Però qua appunto a me personalmente ti spiacerebbe non vederla più, anche perché a quel punto le chance di rivederla perda dopo che è stata smantellata sono nulle, non è impossibile. Ci può essere una piccola probabilità che accada questo. Ma adesso passiamo al punto più cruciale in realtà. La smantellano e lo sostituiscono finalmente dopo anni con un'altra attrazione, perché si Garland non fa, escludiamo Jumanji, non fa un'attrazione seria da un po' di anni. Quindi potrebbe essere proprio il punto perfetto per inserire una nuova attrazione. Io ho trovato due possibili attrazioni con cui sostituire sequoia. La prima è un Junt Frisbee, come è accaduto a Magicland. Magicland ha investito, ha trovato un'ottima attrazione che potesse trovare, potesse, diciamo, far venire altre persone al parco. E' appunto questo Junt Frisbee, chiamato Well Diro Dio, che regala emozioni a dir poco potenti, signori. Regala emozioni ed è un'ottima sostituzione perché? Perché 1. Non costa tanto. 2. È molto adrenalinico. 3. È perfetto per lo spazio in cui appunto si trova sequoia. Non occupa molto spazio in realtà, perciò può essere un'ottima soluzione. La seconda soluzione, in realtà, è l'inserimento di un nuovo rollercoaster. Cosa intendo? È un rollercoaster che sì, si può dire forse un minimo simile a sequoia, ma è diverso. Questo rollercoaster è di tipologia L-Loco, magari vi lascio appunto un video qua da vedere. E ce n'è già uno in realtà in Francia, in un parco, mi sembra, a Frespertus City, mi sembra. Se sbaglio correggetemi qua sotto nei commenti. E questo rollercoaster sì, non è troppo adrenalinico in realtà, non è troppo estremo. Anche una portata oraria abbastanza bassa, non troppo alta. Sempre meglio di sequoia, ovviamente, però può essere un'ottima soluzione per dei motivi principali in realtà. Uno, puoi tenere il tema della segheria, perché ci sarebbe perfettamente comunque il rollercoaster. Basta vedere appunto quello che c'è in Francia, che è sempre a tema far west, segheria e tutte queste robe che riguardano il legno, diciamo, in generale. E quindi ci potrebbe stare. O se no possono mettere anche altri temi e non è che devono per forza tenere quello, però comunque volendo si può fare così. E un altro punto fondamentale è che anche quello lì occupa veramente poco spazio, occupa più spazio in altezza che in lunghezza e larghezza, perché anche quello lì è stretto e occuperebbe quasi lo stesso spazio di sequoia, se non addirittura poco poco di meno. Allora, mie opinioni e considerazioni personali. Come già detto in precedenza, sì, vorrei tenere segure Adventure, non mi dispiacerebbe un giorno rivederla aperta, risalirci almeno un'ultima volta, però capisco che, ci hai detto sinceramente, è un'attrazione di merda. Gardner, non so come abbia fatto investire un'attrazione del genere, perché non è divertente, non è niente, però mi è rimasta nel cuore, mi dispiacerebbe. Sì, io vorrei che la sostituissero, cioè se proprio la dovessero smantellare, vorrei che la sostituissero con appunto il rollercoaster di cui vi parlavo prima. Se devo scegliere tra il jump frisbee e il rollercoaster, preferirei il rollercoaster. Di sicuro la community dei parchi sarebbe molto, ma molto felice del suo smantellamento. E niente, in realtà questa qua era tutta la panoramica per quanto riguarda sequoia Adventure o sequoia Magic Loop. Bene ragazzi, eccoci arrivati alla fine di questo nuovo mio video. Cosa ne pensate della situazione sequoia Adventure o sequoia Magic Loop? Fatemelo sapere qua sotto con un commento, con delle proposte, magari cosa fareste, la sostituireste, la terrestre, la vorreste riaperta, non lo so. Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Come sempre lasciate like, condividete, fate tutto quello che volete. Iscrivetevi con la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Andate ovviamente in descrizione dove trovate tutti i link necessari, come per esempio Instagram, TikTok, Twitch e qualcos'altro di molto molto carino. E noi ragazzi ci possiamo tranquillamente salutare e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!